La testimonianza che volevo portare io è questa, è quella di uno stupore innanzitutto per un bellissimo clima trovato quando abbiamo conosciuto il Baskin qui al Prostone circa tre anni fa e la possibilità di trovare un ambiente realmente inclusivo come il Baskin vuole essere, il che non è scontato perché a volte si parla di inclusività ma poi l'inclusività di fatto la fanno le persone, le personalità inclusive e i contesti inclusivi e in questo devo dire che io innanzitutto come genitore ho trovato nel coach prima di tutto e in tutto l'ambiente Prostone, un ambiente che veramente ha facilitato la nascita non solo del Baskin ma di un bellissimo clima intorno al Baskin, quindi in sintesi un'esperienza assolutamente positiva da genitore, da genitore che poi si è coinvolto anche mettendo a disposizione un po' di esperienza, un po' di capacità a servizio della squadra, a servizio dei ragazzi quindi guidando il pulmino nelle trasferte, aiutando tutti negli sfogliatoi con divise, tute e quant'altro c'è da distribuire o da lavare o da organizzare lì in occasione delle parche di campionato, quindi un'esperienza bella che è in crescita e che vuole essere anche un invito ad altri genitori che magari ci incontrano e ci guardano di poter coinvolgersi anche loro in questa avventura che è veramente una cosa che consiglio ai ragazzi, alle famiglie e a tutto l'ambiente che stiamo creando e che sta crescendo. Grazie 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 Grazie